Città del Messico, 16 ottobre 1968. Sul podio dei 200 metri salgono due atleti americani, Tommy Smith e John Carlos, e l'australiano Peter Norman. Non sarà una premiazione come tutti se la immaginano. Smith e Carlos alzeranno i pugni al cielo, coperti da un guanto nero, e la loro testa si chinerà. Una delle immagini più forti del Novecento, che ha ispirato il lavoro di Lorenzo Iergolino nel libro 35 secondi ancora, che ricostruisce con passione una storia che forse in tanti hanno dimenticato. Da lì a oggi, chiaramente è passato quasi mezzo secolo, ma se ci affacciamo a quello che sta avvenendo ultimamente nello sport americano, dei campi di football soprattutto, ma anche quelli di basket, ultimamente dalle piste ghiacciate dell'NHL, quindi dell'Hockey, per chi è appassionato di sport a stelle e strisce, vedrà come si sta riaccendendo fortemente il legame fra sport e politica, soprattutto e principalmente per quello che riguarda la presa di posizione di atleti afroamericani per gli afroamericani. L'idea, la base del libro, come ti è venuto in mente di affrontare questo argomento, oppure sei rimasto affascinato dalla storia di Tommy Smith e John Carlos? Come sai, gli stimoli per innamorarsi di una storia ci circondano, anzi a volte spesso ci attanagliano. Quando è che diventa ossessione? Lo diventa quando si accende, no? Improvvisamente una lampadina, un faro o una torcia. In questo caso, fra i vari, tantissimi stimoli che ho ricevuto, c'è stata una frase in particolare di John Carlos, il pugno sinistro di quel podio, il corridore arrivato terzo, medaglia di bronzo, quando molti anni dopo si ritrova davanti ai suoi studenti, aprendo un libro di storia e accorgersi che ancora una volta su quel libro, come in tante altre occasioni, avevano mostrato quell'immagine, mostrato l'immagine del podio senza raccontarne la storia. Ecco, quindi forse ho capito per il pubblico italiano, per i lettori, per gli appassionati italiani, valeva veramente la pena mettere insieme i pezzi di questa storia e raccontare cosa c'era dietro a quell'immagine. Non è solo un libro di sport, tu hai conosciuto uno dei due campioni olimpici, sei stato negli Stati Uniti, hai raccolto testimonianze, hai incontrato le persone che hanno vissuto quei momenti. Che idee ti sei fatto? Beh, dal punto di vista metodologico i libri si possono scrivere in tanti modi, non c'è un meglio o un peggio, semplicemente riagganciandomi alla parola che ho detto prima, all'ossessione, poi ti trovi posseduto a fare delle cose, io in questo sono stato recidivo, visto che per un libro precedente dello stesso progetto, sempre con la casa editrice 66 in seconda dedicato al calciatore Socrates, mi sono trovato poi a partire, a percorrere chilometri, a riandare sulle tracce di persone, cose, fatti e luoghi e anche questa volta è stato così, ho avuto il piacere di passare del tempo con Tommy Smith e con sua moglie che è il suo manager De Lois, per vari motivi personali questo non è stato possibile con John Carlos, quindi il libro ha anche questo tipo di contenuti, il fatto di avere i documenti di prima mano, interviste, ritornare sui luoghi e ci tengo a dirlo anche in questo libro in particolare, sono andato a rintracciare anche chi ha ispirato questi due atleti e chi ha ricevuto poi come se fosse il tracciato finale di una staffetta il testimone di questa ispirazione.